Vanno in partenza i cavalli della prima corsa. Il primo segnale è subito valido con Roubaix, che si porta al comando nei confronti di Rosa dell'Est all'esterno Resi e Jet, poi Ramadaz. Quindi c'è stato l'errore da parte di Resi e Jet. Ora la squalifica per Royal Cuff, l'errore anche per Resi e Jet all'esterno. Davanti Roubaix arriva anche la squalifica per Resi e Jet, quindi Roubaix che conduce nei confronti di Rosa dell'Est. Poi più indietro Ramadaz, quindi ancora Rambo di no. E poi a chiudere il plotone, Ringo Ior SM. Si arriva così al passaggio ai 600 di gara in 49 e mezzo. Una partenza da fermo. Roubaix che modera l'andatura nei confronti di Rosa dell'Est. Ora muove dal fondo del gruppo il numero 7, Ringo Ior SM. Quando siamo al paletto gli 800 in 1.6 con Ringo Ior che prova a farsi vedere al segliolo del Battistrada, che tende un po' ad accelerare quando siamo al chilometro che Roubaix passa in 1.21.4. Arriva il suo segliolo, intanto Ringo Ior rimane in posizione di attesa Rosa dell'Est a precedere Ramadaz che è in mezza ruota. E poi dopo a chiudere il plotone c'è ancora Rambo di no. Si va così con una frazione in 15 e mezzo quando siamo ora di fronte. Con sempre Roubaix alla comando si fa più pressante l'azione di Ringo Ior SM che cerca di mettere pressione all'avversario. Si fa vedere Ramadaz che va a prendere la schiena di Ringo Ior. Poi sempre ben appostata Rosa dell'Est, Serra sotto Rambo di no. Questi cinque a giocarsi la corsa quando il Miglio viene passato in 2.59 con l'attacco ora più deciso. L'errore improvviso da parte di Rubea S. Allora c'è l'attacco da parte sempre di Ringo Ior SM che però vede sfilare all'interno Rosa dell'Est. Rosa dell'Est che ha una di margine nei confronti di Ringo Ior. Poi più indietro Rambo di no. All'esterno di tutti ci prova anche Ramadaz. Nel finale Rambo di no che passa per l'interno. Rambo di no, bel finale. Rambo di no che viene a concludere nei confronti di Rosa dell'Est. La vittoria per il numero 6 Rambo di no Francesco Pettinari in questa prima corsa 17.61 al totalizzatore. Linee interne propizie per il figlio di Zilzanbrook Tour, Ginger S. Che viene a concludere nei confronti del numero 3 Rosa dell'Est. Per il terzo c'è ancora il numero 8 Ramadaz.